Siamo lavorando fianco a fianco e con riservatezza per cercare di rintracciare una soluzione alla delicata problematica, sempre nel rispetto della legge. Sono i sindacati dei lavoratori del T-Mac a far sapere come sia stato istituito un dialogo aperto e costruttivo con il neosindaco di Barletta, Cosimo Cannito. Ieri c'è stato un altro incontro tra una delegazione di lavoratori dell'azienda e il primo cittadino, mentre adesso si attende una comunicazione dalla regione Puglia in merito alla possibilità di accesso ad ammortizzatori sociali. Un'attesa risposta che i lavoratori auspicano possa arrivare prima del 20 giugno, giornata nella quale in programma un confronto a Bari in Confindustria tra i sindacati e i vertici dell'azienda. Intanto gli operai, preoccupati per un futuro che appare loro incerto e raccolti in un clima di tensione e agitazione, stanno continuando a stazionare fuori dallo stabilimento. Tutto ha avuto inizio con la sentenziata revoca della facoltà d'uso alla T-Mac, l'azienda di viatrani che produce fertilizzanti. Allo stabilimento sono stati così apposti i sigilli per presunto inquinamento ambientale e l'azienda ha fatto sapere come per assicurare la bonifica del sito sia necessario che gli impianti debbano rimanere spenti. Per questo ha dato il via, ormai 37 giorni fa, alle procedure di licenziamento collettivo nei confronti dei 51 dipendenti. E a raccogliere sin da subito le istanze e le preoccupazioni dei lavoratori è stato il neoprimo cittadino di Barletta, Cosimo Cannito, diversi gli incontri già avvenuti tra il sindaco e gli operai con la speranza di riuscire a mettere in campo una soluzione che riesca a conciliare la tutela ambientale con la salvaguardia dei posti di lavoro.